Mi fa un po' effetto ritrovare ogni tanto i compagni di scuola e con loro ritrovarmici a giocare come si faceva una volta, non nello stesso modo ma insomma Io ho scritto questo pezzo che si chiama appunto compagni di scuola dopo, ispirato da una serata che avevamo passato, di quella serata reunion che tu saprai meglio di me Di quella reunion della classe di liceo dove ti trovi, in questo caso noi dopo un anno e mezzo, a capire che cosa fai, che verso ha preso la tua vita E anche se superficialmente ti diverti, cioè in quel momento ti diverti, però hai sempre un velo di malinconia addosso per gli anni passati Perché io penso che gli anni del liceo siano quelli più belli, voglio dire, cioè quelli più belli della vita di un uomo Certo E anche la paura per il futuro perché non sai se queste persone rimarranno, se le perderai, sicuramente ci sarà una grande selezione Ma guarda, forse non ci pensi tanto alla tua età ed è giusto che sia così, ma dopo voltandoti indietro trovi dei frutti belli da raccogliere E altri un po' meno belli, brutti, anzi direi quelli un po' da scartare, che però purtroppo fanno parte della vita Ma per tanti aspetti, non soltanto Ma sicuramente, sì E questo è vero, è vero, però ecco, è bello però parlarne dei compagni di scuola, è bello parlare di questo periodo Bello perché i compagni di scuola ti formano in un certo senso, ti influenzano nel bene e nel male Io tengo molto al mio caro, amato e odiato allo stesso tempo liceo Tutti ci vorrebbero ritornare poi una volta finita Il famosissimo liceo classico Enrico Berito di Eboli Che è stato per me un trampolino di lancio per il mio percorso musicale Perché io ho cominciato lì praticamente a suonare in gruppo A trovare delle persone con cui suonare, con cui condividere le idee e musicalmente e nella vita Perché alla fine i miei migliori amici, le persone a cui voglio più bene oggi sono quelle del liceo Beh certo E gli amici a cui tengo di più La mia ragazza era in classe con me al liceo Ah vedi Cioè le persone più importanti le ho prese lì E pur essendo passati quasi due anni oramai da quando mi sono licenziato Da quando sono stato buttato fuori dal liceo Mi manca ancora parecchio, sento di appartenere ancora parecchio al liceo classico Cioè mi sento ancora un liceale Pensa per me che sono passati trent'anni Vabbè facciamo finta di niente Senti San Lorenzo Sì Che cosa ci ricorda? San Lorenzo Ma le stelle? Sì guarda Io l'ho scritta una notte che ero sul balcone di casa della mia giovine E guardavo questo cielo stellato Non era propriamente San Lorenzo però c'era un casino di stelle Il che mi ha ispirato parecchio E più che parlare dell'evento astrale in sé A cui il titolo si ispira Parla È un testo molto intimo E molto introspettivo Che parla di diverse situazioni della vita Di quest'età Dai 18 ai 25 anni Una metafora anche qui Una metafora in cui praticamente non sai dove vuoi condurre la tua vita E poi ci sono diversi riferimenti a tanti eventi Miei ma anche non miei Che non vale nemmeno la pena svelare Altrimenti si svelisce il senso È giusto E allora ascoltiamo San Lorenzo qui Manuel Miranda a Radio MPA Burattino senza fili Grande album Eh sì 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 Tra l'altro un album che quando andammo in gita Fu consumato Grandissimo album All'epoca c'erano le cassette Quindi ti lascio immaginare Eh è vero Guarda quello è stato L'album che insieme ad Aloha dei Pu È stato quello che ho ascoltato Da quando sono Dal giorno della mia nascita Burattino senza fili è stato un altro Perché poi affascinava il fatto che Benato fosse un contestatore Che non veniva mai Ah grandissimo È così invitato in televisione Trovava poco spazio Ma ancora adesso purtroppo è un cantatore censurato Sì 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 Lui come il fratello Il fratello è ancora più critico Sì Eugenio è grandissimo Eh sì 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 Anche se io preferisco Edoardo No anche io è molto più soft Molto più dolce Anche è molto più rocchettaro Quindi fa parte della mia cultura musicale E allora il pop rock tuo si distingue per questo e quant'altro Manuel Sì Avrai altre ispirazioni in futuro Pensi di allargarti su altri orizzonti? Ma spero di sì voglio dire Cioè Tipo? Spero di Di tentare sempre cose nuove Di sperimentare cose nuove Per esempio uno dei brani di questo album Che non rientrano nei Magnifici Dieci Quindi non tra questi che presento stasera Ma Chi voglia Chi è interessato Può scaricare l'album Trovando il link sul profilo della mia pagina Facebook Si chiama È uno strumentale che si chiama Nella gabbia dei leoni E che mi è piaciuto molto sperimentare questo Questo strumentale quasi dance anni 80 Fatto solamente di sintetizzatori Di batteria elettronica Quasi disco dance Proprio ballabile Era un po' quello 70-80 Non è il mio genere assolutamente Il mio genere è il rock pop Oppure questo anche di protesta Qualcosa come questo pezzo che abbiamo sentito adesso A gambe elevate Che ho scritto parlando in maniera molto irriverente Di una donna ministro italiano Di cui meglio non fare nome Scusa 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 Che mi è sfuggito Che hai detto? Era a gambe levato E a gambe elevate Un pezzo in cui ho deriso Molto irriverentemente Una delle donne ministro italiane Più conosciute Adesso purtroppo Non possiamo fare nome Ebbè che ci faccio io Non è un problema Io faccio sempre i nomi Guarda Se si può fare il nome Lo dico chiaramente La Santa Anchei La donna che La Santa Anchei La donna che Mi ispira tutt'altro che Politica Che fiducia e altro Ma come lei è la Brambilla E tante altre Purtroppo la politica in questo paese È cultura a zero È la cultura a zero E non ci siamo Purtroppo la notizia di questi giorni È tragica Soprattutto per Per chi come me Vuole intraprendere anche un futuro nella scuola Certo Certo Si è saputo di questa manovra Che verrà attuata a dicembre Che chiuderà le graduatorie Agli insegnanti giovani O meglio Solamente il 50% dei posti Verranno riservati ai giovani Cosa che ci porterà purtroppo Ad andare all'estero A tentare la carina Ma sicuramente Guarda Ti posso consigliare un paese all'estero L'Islanda L'Islanda Perché lì hanno capito Qual è il senso della vita Hanno capito Qual è la fregatura Che ci stanno propinando E che ci hanno già combinato Anzi a tal proposito Ti invito Come tutti gli altri amici Ad ascoltare il programma di domani sera Perché Parleremo anche Del signoraggio Bancario Parleremo anche Di tutte queste cose Perché la radio Non deve essere soltanto Informazione musicale Ma informazione 360 gradi Io ci credo tantissimo Il mio è un programma di denuncia E quindi non ho paura a farlo Perfetto